Ma è necessario di avere qualcosa di simile a quello che è venuto appunto di questioni etiche e rivaloriali ma deve essere raccompagnate anche a gambe capaci di dare l'economia. In questo tavolo abbiamo parlato di lavoro, di green economy, di economia civile e del ruolo in cui l'Egambiente può contaminarsi o contaminare queste altre realtà. Quello che è emerso fondamentalmente da questo tavolo è il fatto che è possibile pensare che l'economia sia qualcosa da contaminare da un punto di vista politico e questa contaminazione di civiltà dentro l'economia che l'Egambiente può portare è una grossa opportunità anche per l'associazione stessa perché dentro le dinamiche probabilmente di economia civile si aprono anche possibilità per l'associazione di intercettare nuove realtà, di intercettare il mondo del volontariato di creare una forma evoluta che si evolve di associazionismo. Ci sono stati mostrati alcuni esempi come quello del circolo di Cormano che lavora sul tema del recupero del cibo per evitarne lo spreco e la sua redistribuzione o il tema della cascina nascosta gestita da Lega Ambiente Lombardia come presidio di realtà, di economia civile che sviluppa quindi oltre al valore anche dei valori e poi anche abbiamo parlato dell'ostello che si trova nel parco del Monte Barro gestito da Lega Ambiente Lecco perché attorno a presidi e a luoghi di economia civile possono anche nascere opportunità associative forti e gruppi associativi forti. Il tavolo sui territori e le aree urbane si è concentrato inizialmente sul consumo di suolo con un breve escursus sui dati e sulle problematiche strettamente legate all'urbanistica e alla cementificazione e poi si è orientato maggiormente sulla vocazione e sull'importanza delle aree agricole e della loro valorizzazione delle modalità attraverso le quali è possibile fare questa valorizzazione. Per concludere, sugli aspetti invece più legati alla biodiversità e alla naturalità e quindi alla rete ecologica e ai parchi. Ne è messa una visione strategica che riguarda il suolo. Il suolo è il centro perché al centro c'è la campagna Pippo for Soil, la raccolta di firme è un'idea veramente forte di Lega Ambiente in tutti questi anni ottenuta grazie a una passione territoriale detta, dimostrata da tutti la custodia del territorio, l'agricoltura di prossimità, il chilometro zero gli acquisti ecosolidali, cioè tutta un'azione protesa verso il fatto che il suolo è un bene comune. Quindi ribadiamo che la strategia della Lega Ambiente per il futuro è una strategia che riguarda la nuova pianificazione territoriale, il nuovo patto con gli agricoltori e con i piani di sviluppo rurale e una nuova visione della rete ecologica che è collegata alla sopravvivenza della nostra specie. Questa è la sfida che Lega Ambiente fa nascere da questa consulta per i prossimi cinque anni è una sfida forte che mette al centro il suolo come bene comune utile alla sopravvivenza. Come confrontarsi come Lega Ambiente con le realtà dell'industria e come agire rispetto alla trasformazione economica in atto. Il gruppo, composto anche da molti bresciani, si è dedicato in gran parte alla discussione delle bonifiche. Si è concluso con cinque proposte. Una restituzione o un rafforzamento dei poteri di ARPA, poteri di controllo e anche di polizia giudiziaria. Poi la valutazione dell'impatto ambientale della bonifica accompagnata anche da un'analisi dei costi-benefici. Costituire con il contributo delle aziende, magari in un primo momento in modo volontario e poi obbligatorio, un contributo da parte delle aziende per la costituzione di un fondo a cui attingere poi quando c'è il problema, il disastro e non invece sempre ricorrere al finanziamento pubblico o in sostanza al debito pubblico. Ecco, magari con un sistema di incentivi per le buone pratiche, per riduzione del contributo al fondo per chi attua delle buone pratiche in azienda che riducono il rischio. Poi, quarta proposta, favorire gli accordi volontari sulla base di un esempio di consorzio che si è costituito qui nel Bresciano tra le aziende e le associazioni ambientali decidono autonomamente degli accordi volontari per la riduzione del rischio. È emersa una valutazione critica dell'analisi del rischio e allora la proposta è quella che venga controllato dall'ente pubblico.